Alberto Castelvecchi, editore, saggista, linguista, giornalista, insomma tantissime cose ha fatto. Oggi qui un panel sul GESU LOCIO e personal touch. Quanto incide il tocco personale sull'esperienza turistica? Incide tantissimo. Io sono venuto qui anche perché questo è diventato il personal touch e il personal branding, sono diventati il mio nuovo mestiere. Io mi occupo all'università Luis Guido Carli di formare centinaia di giovani proprio nel cercare di avere un comportamento verso quelli che saranno i loro futuri clienti dotato di un tocco personale che è quel misto di stile per esempio con un albergatore. Tu mi chiedi di un albergatore, dovrebbe essere uno stile che in qualche modo comincia a partire da come sei vestito a come guardi negli occhi le persone, a come tocchi le persone, vedi io ti sto toccando appunto sono una persona molto fisica ma anche il luogo in cui tu accogli le persone deve parlare di te e la relazione, il modo in cui tu traduci per esempio una città come Firenze, una città come Roma, una città come Francoforte la sai tradurre agli occhi di chi la visita. È un insieme di cose, il tocco personale è molto molto personale ma deriva da un insieme di piccoli dettagli e tutti noi quando visitiamo un albergo, un ristorante, un resort, un agriturismo, quando usciamo diciamo ma mi hanno trattato bene o male?